Non pensi che forse sarebbe ora di incontrare qualcun'altra? Lo so, sta tranquillo. Quello che ti succede è perfettamente naturale. Sai, ci sono dei servizi, se vuoi... Servizi? Sì. Di che genere? Allieto o fine? Come sarebbe? Lì non ci metto piede. Oh mio Dio! Non ho bisogno, non ho bisogno di quel genere di passaggi. Non è a quelli che stavo... Come fai a conoscere? Sono molto pericolosi e ci si può toccare qualcosa. Meglio che non te lo dica cosa puoi beccarti. Parla con tutti i morti, ma hai finito in ospedale per due settimane. È disgustoso.